Oggi i ragazzi hanno meritato la vittoria ampiamente, secondo me, con un po' di sofferenza, ma nel calcio italiano è così, a qualsiasi livello, quindi siamo molto soddisfatti di questa vittoria, per come è arrivata, per lo spirito di gruppo, per l'unione che si vede in campo e quindi i risultati non possono che arrivare con queste caratteristiche. Abbiamo concesso veramente pochissimo, qualcosina nel finale a Palermo, potremmo anche nel primo tempo sbloccare la partita in due o tre circostanze, quindi oggi è stata un'ottima squadra, un'ottima Sampdoria, che ha ancora ampi margini di crescita, ma l'importante è porre delle basi di temperamento, di fiducia, autostima e di unione che in questo momento si vedono. Qualche giorno di riposo per staccare un attimo la spina, forse sarebbe stato meglio continuare, però... Io avrei preferito, ma non si può scegliere, sarà perché ho iniziato tardi, solo un mese fa a lavorare, quindi non sento il bisogno di riposarmi, però magari i giocatori che hanno iniziato molto presto, non va dimenticato, questa stagione sicuramente gioveranno di questo riposo. E poi si inizierà a pensare al derby? Poi penseremo al derby quando si rientra. non si è vero che la spina è passata, dar 자�ina sicuramente new reason. Allora, screvo la faccia sul lavoro, per fare Г